La gente come noi non molla mai Non so se va più di moda fare un ragionamento Però vorrei fare lo stesso ragionamento Io credevo d'essere comunista Pensavo proprio d'essere comunista Ma adesso mi ritrovo, adesso mi ritrovo Ad essere additato come fascista Insomma io ho una crisi d'identità Non so se sono di destra o di sinistra Se sono sovranista oppure populista So solo che qui in basso me lo danno Però un'altra cosa io la so Sotto questo eterno firmamento Che meglio essere fascista, sovranista e populista Che essere Roberto Sperata È meglio populista, complottista e terrapiattista Che essere Roberto Sperata Tutti in coro?